www.maurizopoli.it un piccolo intervento qui riporterò poi il link con questa domanda hai controllato la tua pensione? prevenire è meglio che curare come dice, vivi il presente in maniera consapevole per proteggere il tuo futuro e vivere il tuo futuro con serenità. Due minuti per calcolare la tua posizione, la tua situazione previdenziale e valutare come proteggere il tuo futuro le varie fasi della vita ho appena finito di studiare, laurearvi 25 anni, ho 40 anni ho 55 anni, sono varie fasi devo pensarci, io devo prevenire che è meglio che curare vivi il presente in maniera consapevole per guardare il tuo futuro con serenità qui troverete il link un mio numero di riferimento 0372 20405 una mia mail è m.poli chiocciolaiort-solution.it per una consulenza gratuita e valutare insieme a te il tuo futuro pensionistico il tuo futuro previdenziale ricordando sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani alla prossima grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori